La palestra della scuola De Curtis si trasforma in un palazzetto sportivo. La struttura scolastica di Viale Kennedy ad Aversa sta già ospitando allenamenti di pallavolo e basket. Con l'apertura della palestra De Curtis abbiamo dato la possibilità a tutte le associazioni del territorio di promuovere lo sport nella nostra città di Aversa. Le attività che si svolgeranno saranno multidisciplinare. Le attività sportive si svolgono soltanto nelle ore extrascolastiche, ovvero di pomeriggio, mentre di mattina la palestra è a disposizione degli studenti e dei docenti. La scuola, come fa sapere il consigliere di maggioranza con delega allo sport, ha ottenuto l'agibilità per la palestra che può essere già usufruita dagli Aversani. Le associazioni in questi giorni stanno firmando la convenzione per dare la possibilità di avere il buon senso della disponibilità delle palestre comunali. Con impegno, con determinazione, con passione stiamo portando avanti un obiettivo importante. Grazie.